Favini Secure Suite è la gamma di elementi integrabili nella carta di nostra produzione come sistema anti-contraffazione nell'ambito della protezione del marchio e dei documenti. La contraffazione è un fenomeno che danneggia l'economia e le imprese e rappresenta un rischio per la salute e sicurezza del cittadino consumatore. I settori merceologici più colpiti sono moda, lusso, prodotti per l'infanzia, farma e cosmesi, oltre a documenti di identificazione e strumenti di pagamento. Per ogni tipologia di prodotto, Favini ha pensato a soluzioni specifiche. Ma come distinguere il vero dal falso? Ad esempio, introducendo elementi di sicurezza nel packaging che rendano l'originale distinguibile dal contraffatto. La filigrana è uno degli elementi più utilizzati come garanzia di originalità. Osservando contro luce la carta, si riconoscono loghi o altri segni distintivi. Le fibre di sicurezza vengono inserite nella carta e differiscono per colore, lunghezza e spessore. Possono essere visibili alla luce solare o UV. La carta, inoltre, può essere trattata chimicamente per reagire marcandosi indelebilmente nel caso di tentativi di alterazione del testo. La carta, inoltre, può essere trattata chimicamente per colore.